Al trazione congiunta tra carabinieri, polizia e polizia locale dopo quella effettuata lunedì scorso in via Fanella, ieri mattina al Vittoria Colonna, il grande complesso che sorge in via Montegrappa abbandonato da decenni, ancora una volta occupato dai stranei, nonostante che non molto tempo fa fossero state rafforzate le misure anti-intrusione. Ancora una volta sono stati residenti a segnalare la presenza degli abusivi dopo aver notato uno strano andirivieni che superava con facilità le misure di sicurezza messe in atto su incarico della proprietà l'Invmit, società di investimenti immobiliari italiani del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'accordo con l'amministrazione comunale. Allora furono murate porte e finestre e chiusi tutti gli accessi, oltre a essere rinforzata la recensione esterna. Tuttavia quelle misure non sono bastate per preservare l'integrità dell'edificio, tanto che lo stesso è stato occupato di nuovo. Stamattina, alle prime luci dell'alba, poliziotti e carabinieri, di cui hanno fatto parte anche le unità cinofile, sono entrate in azione e hanno sorpreso all'interno dell'enorme complesso quattro immigrati. Questa volta non si è trattato soltanto di senza tetto, che hanno cercato un riparo per trascorrere la notte, ma all'interno è stato trovato un quantitativo di droga e la strumentazione per confezionare le dosi dello stupefacente. Il Vittorio Colonna, in parole povere, è stato trasformato in una base per lo spazio degli stupefacenti nella nostra città. L'operazione è stata condotta su input della questura e ha portato all'arresto di quattro immigrati, uno dei quali è stato portato via in ambulanza, essendo affetto da una malattia contagiosa. Ha presa la notizia e giunto il commento del sindaco di Fano, Luca Serfilippi, che della sicurezza ha fatto un impegno prioritario del suo programma elettorale. Ringrazio le forze dell'ordine che sono intervenute tempestivamente e che hanno arrestato i quattro soggetti, ha sottolineato Serfilippi. Questo è un segnale importante che diamo contro il fenomeno dell'abusivismo, poiché non tolleriamo queste situazioni in cui le persone occupano illegittimamente gli edifici. Come amministrazione continueremo ad adottare un atteggiamento duro nei confronti di spacciatori e di persone che delinquono. Ci impegneremo a definire una strategia condivisa con gli enti preposti affinché Fano sia la più sicura possibile. Rimarco, ha concluso il sindaco, che nella nostra città non vogliamo queste persone.